Il paradiso delle signore, martedì 6 ottobre 2020. Vittorio e Marta decidono di fare un passo indietro. Non sono disposti a fare anche cose illegali per tenere con sé la piccola Anna e devono abituarsi a una vita senza di lei. Se la madre non vuole tenerla con sé, bisognerà fare in modo che sia adottata. Marta è disperata per aver perso la seconda possibilità di essere mamma e la mancanza della bimba si fa sentire con insistenza. Per questo motivo la signora Amato va a parlare con Vittorio per consigliargli di portare sua moglie a fare un viaggio il più lontano possibile. Soltanto così potrà distrarsi. Riccardo non nasconda Ludovica di aver incontrato Nicoletta per caso dopo che quest'ultima era stata al paradiso. Intanto Nicoletta parla con Silvia e non può fare a meno di confessarle che i sentimenti per Riccardo non sono mai finiti. Lei lo ama ancora. Gabriella svela a Roberta quello che è successo con Cosimo e aggiunge di essere stata in procinto di baciarlo. Non sa cosa fare. Umberto intanto chiama Riccardo per avvertirlo del suo imminente ritorno a Milano. Con lui c'è Adelaide. Marta e Vittorio organizzano un bel ritorno per la contessa. Mentre Conti prepara una sorpresa per sua moglie.